Musica Nella sanità sarda per ora hanno sistemato i vertici dei quali si è riferito in altri servizi per quanto riguarda le fasce dei compensi finanziari attribuiti, compresi gli incentivi, in dipendenza dei risultati che riusciranno a raggiungere nel dirigere e amministrare la sanità in Sardegna. L'attenzione di questi primi giorni dell'anno è comunque rivolta all'estendersi dei focolai di epidemia che investono il paese e l'isola che nonostante tutto continua a mantenere il virus entro limiti che allarmano ma che sono ancora dentro i parametri della tollerabilità. L'impegno maggiore è quello richiesto per i vaccini e i tamponi anche a seguito della estensione della platea degli utenti che coinvolgono non solo gli over 50 ma anche i ragazzi. Le strutture addette sono in sofferenza e torna il problema e l'esigenza di una pianificazione diversa del sistema sanitario non tutto coinvolto nel fronteggiare questa emergenza ad iniziare, tranne casi rari, dai medici di famiglia. L'amministrazione comunale da seguito a quanto previsto dall'ordinanza del sindaco 2022 di chiusura temporanea delle scuole e in collaborazione con l'ASL di Oristano, i medici, gli infermieri, i volontari e tutti i collaboratori programma lo screening degli alunni e alunne delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Cavras e Solanas. I test antigenici che sono stati forniti dalla ASL verranno effettuati al centro polivalente nelle mattine di sabato 15 e domenica 16 gennaio dalle ore 9 alle ore 12. Nelle ultime settimane i contagi hanno subito un aumento incontrollabile fatto che mi ha spinto a chiudere le scuole per permettere un rientro più sicuro dei più piccoli attraverso l'organizzazione di una campagna mirata di screening della popolazione scolastica ha dichiarato il sindaco Andrea Abis. A causa della contagiosità molto elevata delle ultime varianti, proprio nel corso di questi giorni sono state riscontrate molte positività fra i più piccoli e purtroppo ogni giorno i numeri crescono. Vi sono ormai tanti bambini che presentano sintomi e sono in attesa di pampone. Attendo fiducioso un'adesione massiccia da parte dei genitori in modo che si possa ripartire con le lezioni in presenza con il maggior controllo a continuato Abis e con l'appello che nel frattempo venga accelerata la vaccinazione di quella parte di popolazione che a causa della giovane età non ha ancora potuto ricevere la prima dose. In caso di positività la famiglia dell'alunno coinvolto verrà contattata dal servizio di igiene pubblica per la verifica con tampone molecolare e la gestione della quarantena sanitaria. Screening agli studenti di San Mugheo. 161 tamponi effettuati e 18 positivi. Oggi, 13 gennaio, rientra a scuola. A dare la notizia è stato il sindaco Basilio Patta. Dopo un'attenta valutazione dei dati relativi ai contagio deciso, sentiti tutti i soggetti coinvolti di non rinnovare l'ordinanza di chiusura delle scuole e riaprire i nostri plessi scolastici per le lezioni in presenza. Questa volontà matura con una determinata consapevolezza che tutti noi dobbiamo convintamente avere, ha dichiarato Patta, che non ci può essere soltanto la chiusura delle scuole come strumento di contenimento al diffondersi del coronavirus. Anzi, questa deve essere l'ultima delle soluzioni auspicabili. Non possono essere certamente i nostri ragazzi a dover essere sacrificati in nome di una garanzia di salute più generale. I contagi, sappiamo tutti, non sono partiti certo all'interno delle aule e oggi chi frequenta la scuola è la fascia di popolazione più monitorata. Garantire a chi sta bene e non ha problemi di salute il sacro santo diritto di frequentare le lezioni in presenza seppur con qualche disagio è la prima e più diretta priorità di questa amministrazione. Ha continuato il primo cittadino di Samugeo della dirigenza scolastica e delle autorità sanitarie. I primi giorni potranno essere difficoltosi, potrà avvenire che venga diversificata la didattica a seconda delle decisioni delle autorità scolastiche e delle casistiche di contagio nelle classi, ma c'è la determinazione a non chiudere ulteriormente i nostri plessi scolastici. Prenderanno in via lunedì 17 gennaio i lavori per il completamento del rifacimento dei marciapiedi, degli attraversamenti e dell'eliminazione delle barriere architettoniche in via Figoli-Auristano. Si interverrà sul lato sinistro del mercato civico sino al Vico Mazzini, completando l'intervento realizzato la scorsa estate. Hanno evidenziato il sindaco Andrea Luzzo e l'assessore ai lavori pubblici Francesco Pinna. Gli interventi sono inclusi nel progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con 130.000 euro per le aree della città che presentano condizioni di particolari criticità. In questi mesi siamo intervenuti in numerose aree, ha precisato Pinna. Il completamento di via Figoli segue altri interventi realizzati o tutt'ora in corso e ha come finalità l'eliminazione delle barriere architettoniche dalla viabilità e in particolare dei marciapiedi che non permettono o rendono difficoltosa la circolazione pedonale negli abitati della città e delle frazioni. Per l'intera durata dei lavori nei tratti oggetto dell'intervento a cura dell'impresa Caredda sarà disposto il divieto di sosta. Giochi fatti in Consiglio regionale nella elezione dei tre rappresentanti che alla Camera prenderanno parte alle votazioni per la elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Dopo qualche schermaglia procedurale protrattasi per diversi giorni l'Assemblea è andata finalmente al voto eleggendo il Presidente della Giunta Cristian Solinas quello dell'Assemblea Michele Paes e il capogruppo del Partito Democratico Gianfranco Ganau che aveva già vissuto l'esperienza nella elezione di Mattarella. Il deputato Lucia Scano originaria di Nugedo Santa Vittoria eletta la Camera nella lista 5 Stelle dopo aver lasciato di recente il gruppo parlamentare e rapprodata in quello misto dove stanno convergendo in diversi. Ora l'ennesimo mutamento di posizioni nelle scelte è la collocazione del deputato Sardo che ha aderito al Movimento Coraggio Italia e al suo gruppo parlamentare comprendente diversi che hanno lasciato Forza Italia. Coraggio Italia è stato fondato di recente dal Presidente della Liguria Totti e dal Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Misure finanziarie contenute nel Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della nuova politica agricola Comune 2023-2027. Questo in sintesi l'oggetto dell'interpellanza presentata al Presidente della Regione Cristian Solinas e all'Associazione Regionale dell'Agricoltura Gabriella Murgia dal Consigliere regionale Emanuele Cera primo firmatario Angelo Cocciu e Giuseppe Talanas. Il Consigliere Emanuele Cera ha espresso una positiva valutazione sulle misure previste per il comparto zootecnico della Sardegna in cui viene previsto uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro per il settore zootecnico nazionale e che vede rispetto al passato risorse aggiuntive con la nuova PAC per il 2023-2027. Tuttavia, ha affermato Cera mancano all'appello le ulteriori misure aggiuntive contenute nello stesso piano previste per il benessere animale del comparto Ovi-Caprino-Sardo e con questa interpellanza intende sollecitare un immediato intervento del Presidente e dell'Assessore Murgia per riproporre la problematica già rappresentata nel tavolo del partenariato dei mesi scorsi. Occorre, ha concluso Cera intervenire per richiedere con forza che questa opportunità prevista con il nuovo piano sia recepita nella prossima conferenza Stato-Regioni e venga riconosciuto l'inserimento del target di ovini, caprini, bovini da carne e suini. Sono 1.296 i casi accertati oggi in Sardegna. Sono stati processati in totale fra molecolari antigenici 20.997 tamponi. I pazienti ricoverati in nere parti di terapia intensiva sono 28, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 231 16 in più di ieri. Si registra un decesso. A Oristano sono stati accertati 30 nuovi casi di positività e 32 guarigioni. L'Inps avvisa tutti i suoi utenti che sono in corso tentativi di truffa tramite email di phishing i quali sfruttando apparenti comunicazioni da parte di un sedicente servizio cliente dell'istituto invitano ad inviare dati personali su un link cliccabile allo scopo di ottenere il pagamento di una somma tramita e bonifico da parte dell'Inps. L'istituto invita i propri utenti a diffidare di tali comunicazioni in quanto finalizzati a sottrarre fraudolentemente dati anagrafici oppure relativi a conti correnti o a carte di credito. Si ricorda al riguardo che le informazioni sulla propria posizione sono consultabili accedendo direttamente al sito www.inps.it e che l'Inps per motivi di sicurezza non invia mai comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili. Per ogni necessità di assistenza si invita a contattare le sedi dell'istituto. Domenica 16 gennaio dalle ore 8 alle ore 12.30 in via San Michele 13 a San Verumilis fronte aula consigliare sosterà l'auto emoteca per la raccolta sangue l'Avis comunale chiede di essere contattata per prenotare la donazione al fine di evitare assembramenti e operare in sicurezza per informazioni e prenotazioni scrive direttamente alla pagina Avis San Verumilis. L'unità di progetto Iscola ha emanato un avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente da finanziare nell'ambito del piano l'azione di riprese ed esilienza missione 4 istruzione ricerca potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università Siamo pronti a investire le risorse emesse a disposizione dal piano un'azione di resilienza e ripresa per la sanità e investiremo fino all'ultimo centesimo per dare ai sardi servizi sempre migliori moderni e potenziare così cure e assistenza lo ha dichiarato il presidente della regione Cristian Solinas in seguito alla comunicazione dello stanziamento previsto per la sanità sarda nel decreto del governo che fissa le risorse destinate all'isola per 270 milioni di euro una grande opportunità che ci impegna con tutti i nostri sforzi per investire nel modo migliore queste risorse ha concluso Solinas L'assessorato dell'agricoltura ha approvato e pubblicato l'ottavo e ultimo aggiornamento dell'elenco produttori del settore lattiero caseario e della panificazione che hanno presentato la manifestazione di interesse completa dei dati richiesti in relazione all'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla vendita finalizzata alla costituzione di un elenco di produttori legge regionale 23 luglio 2020 articolo 31 disposizione in favore delle famiglie indigenti di un'esercizio 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 он por un'esercizio